Ma l'augurio per lui. Gegeo Molloy disse non senza rimpianto. Eppure morì senza aver messo piede nella terra promessa. Un improvviso allora, sebbene dopo lunga malattia, con frequente espettorazione, decesso, disse Lenian, e con un grande avvenire dietro di sé. Si sentì la mandria dai piedi scalzi correre nel corridoio e scalpitare su per le scale. Questa è oratoria, disse il professore non contraddetto. Via col vento. Eserciti a melmast e a tara dei re. Miglia e miglia di orecchie e di padiglioni. Le parole del tribuno, urlate e sparsi ai quattroventi. Un popolo al riparo della sua voce. Rumore sordo. Vestigia a casi che di tutto ciò che dovunque sempre mai fu. Amatelo e lodatelo. Me non più. Ho danaro. Signori, disse Stephen, come punto seguente all'ordine del giorno posso suggerire che l'assemblea ora si aggiorni? Mi fa mancare il fiato. È forse mai una specie di complimento francese? Chiese Mr. O'Mahdenberg. È l'ora parmi in cui la coppa di vino, metaforicamente parlando, più giova dal taverniere antiquo. E ciò sia. E resti con ciò fermamente deciso. Tutti quelli a favore dicano sì, annunciò Lenian. I contrari no. Mozione approvata. E qual specifico ridotto bevitorio leggiamo? Il mio voto determinante è da Mooney. Fece strada ammonendo. Noi ci rifiuteremo energicamente di ingerire acqueforti, vero? Senz'altro. In modo alcuno. Mr. O'Mahdenberg, alle loro calcagna, disse con un colpo d'intesa del suo ombrello. Dai, Macduff! Buon sangue non mente, esclamò il direttore con una manata sulla spalla di Stephen. Andiamo. Dove sono quelle maledette chiavi? Si frugò in tasca e tirò fuori il dattilo scritto spiegazzato. Afta epizotica. Certo. Andrà bene. Sarà pubblicato. Dove sono? Ah, bene. Ricacciò in tasca i fogli e rientrò in ufficio. Speriamo. Gegeio Molloy, sulle mosse di seguirlo, disse a bassa voce a Stephen. Spero che vivrà abbastanza per vederlo pubblicato. Un momento, Miles. Entrò nell'ufficio chiudendosi la porta alle spalle. Venga, Stephen, disse il professore. È bello, non è vero? Visione profetica. Fuit ilium, il sacco della procellosa Troia. Gli imperi di questo mondo. I padroni del Mediterraneo oggi sono dei fellà. Un primo strillone scese le scale a rompicollo alle loro calcagna e corse fuori nella strada urlando Edizione straordinaria! Le corse! Dublino. Ho molto, moltissimo da imparare. Voltarono a sinistra per Abbey Street. Anch'io ho una visione, disse Stephen. Sì, disse il professore saltellando per mettersi al passo. Crawford ci raggiungerà. Un altro strillone li sorpassò di gran corsa urlando Edizione straordinaria! Le corse! Cara sporca Dublino. Dublinesi. Due vestali di Dublino, disse Stephen. Anziane e pie. Hanno vissuto rispettivamente cinquanta e cinquenta e tre anni in Fanballis Lane. Dove resta? chiese il professore. Oltre Black Pits, disse Stephen. Notte umida, maleodorante di pasta famelica. Contro il muro. Viso luccicante color sego sotto lo scialle di lana. Cuori frenetici. Vestigia a casiche. Più presto, coccobello. Forza ora. Osa. E la vita sia. Vogliono vedere Dublino dall'alto della colonna di Nelson. Mettono da parte tre scellini e dieci pence in un salvadanaio di latta rossa a forma di cassetta delle lettere. Fan venire fuori le monete da tre pence e una da sei e cavan fuori con un coltello le altre monetine. Due scellini e tre pence d'argento e uno scellino e sette pence di rame. Si mettono il cappello e i vestiti di rappresentanza e prendono l'ombrello in caso venisse a piovere. Vergini sagge, disse il professor McHugh. Sul vivo. Comprano uno scellino e quattro pence di affettato e quattro fette di pane al ristorante di Marlborough Street da Miss Kate Collins, la proprietaria. Acquistano ventiquattro susine mature da una ragazza ai piedi della colonna di Nelson perché l'affettato fa venir sete. Danno due monetine da tre pence all'uomo dell'ingresso e cominciano a salire barcollando su per la scala a chiocciola, grugnendo, incoraggiandosi reciprocamente, spaventate dal buio, ansimando, chiedendosi sian sempre l'affettato con sé, lodando Dio e la Beata Vergine, minacciando di tornare indietro, occhieggiando alle feritoie. Gloria a Dio! Non si immaginavano che fosse così alta. Si chiamano Anne Cairns e Florence McCabe. Anne Cairns ha una lombagine che cura con frizioni di acqua di Lourdes, datale da una signora che nebbe una bottiglia da un passionista. Florence McCabe si mangia un pieduccio di porco e una bottiglia di birra tutti sabato sera. Antitesi, disse il professore accennando due volte con il capo. Vergini vestali. Mi par di sentirle. Che cosa trattiene il nostro amico? Si voltò. Uno sciame di strilloni corse giù per gli scalini, a rompicollo in tutte le direzioni, urlando fogli bianchi di giornale al vento. Subito dietro a loro apparve sulle scale Miles Crawford, il volto scarlatto aureolato dalla paglietta, parlando con Gegéio Molloy. Venga, gridò il professore agitando un braccio. Riprese a camminare a fianco di Stephen. Sì, disse. Mi par di vederle. Ritorno di Bloom. Mister Bloom, senza fiato, colto in un mulinello di strilloni sfrenati presso gli uffici dell'Irish Catholic e del Dublin Penny Journal, gridò. Mister Crawford, un momento. Telegraph. Edizione straordinaria. Che c'è? disse Miles Crawford, facendo un passo indietro. Uno strillone urlò in faccia a Mister Bloom. Orribile disgrazia a Rathmines, un bambino morsicato da un soffietto. Colloquio col direttore. A proposito di quell'inserzione, disse Mister Bloom facendosi strada verso gli scalini, sbuffando e levandosi di tasca il ritaglio, ho parlato proprio ora con Mister Kiss. Rinnoverà per due mesi, dice. Poi si vedrà. Ma vuole anche un trafiletto per richiamar l'attenzione sul telegraph, quello rosa del sabato. E lo vorrebbe far copiare, se non è troppo tardi, l'ho detto al consigliere Nannetti, come sul Kilcanny People. Lo posso consultare alla Biblioteca nazionale. La casa delle chiavi. Capisce? Si chiama Kiss. Chiavi. Un gioco di parole sul nome. Ma praticamente ha promesso di rinnovare. Vuole solo che gli si batta un po' di gran cassa. Che cosa gli devo dire, Mister Crawford? B. M. C. Vuol dirgli che può baciarmi il culo? Disse Miles Crawford con una mossa enfatica del braccio. Glielo dica direttamente da parte mia. Ho un po' nervosino. Attenzione alla burrasca. Tutti usciti per una bevuta. A braccetto. Il berretto da spiaggia di Lenehan laggiù a pesca di chi paga da bere. Soliti fiumi di chiacchiere. Chissà. Si è stato il giovane Daedalus ad avere l'idea. Oggi ha un bel paio di scarpe. L'ultima volta era scalcagnato. Ha camminato nel fango da qualche parte. Sbadato. Che faceva a Erishtam? Bene, disse Mister Bloom tornando indietro con lo sguardo. Se posso avere il disegno mi pare che valga la pena di farci un trafiletto. Credo che l'annuncio lo darà. Glielo dirò io. B. M. R. C. I. Può baciare il mio regal culo irlandese, urlò ad altissima voce Miles Crawford voltando la testa. Quando gli pare piace. Glielo dica. Mentre Mister Bloom soppesava la questione e stava per sorridere, il direttore si allontanò a passi nervosi. Battere cassa. Nulla buona Jack, disse portando la mano al mento. Ci son dentro fino a qui. Ci son già passato. Cercavo qualcuno che mi avallasse una cambiale non più tardi della settimana scorsa. Mi dispiace Jack. Lo farei se potessi. Se mi riuscisse di batter cassa in qualche maniera lo farei di corsa. Jay Jay o Molloy fece un viso lungo così e seguitò a camminare in silenzio. Raggiunsero gli altri e camminarono l'uno accanto all'altro. Quando ha mangiato pane e affettato e si son pulite le venti dita nella carta in cui era avvolto il pane, si avvicinano ancor di più alla balaustra. Qualcosa per lei, spiegò il professore a Miles Crawford, due vecchie dublinesi, in cima alla colonna di Nelson. Che popò di colonna, così disse la prima traballona. È nuova, disse Miles Crawford. È materiale pubblicabile. In libera uscita. Due vecchie filone, eh? Però han paura che la colonna caschi, continuò Stephen. Vedono i tetti e discutono dove sono le varie chiese. La cupola azzurra di Red Mines, Adamo e Deva, Saint Lawrence O'Toole, ma siccome a guardare gira loro la testa, si tirano su le gonne. Quelle femmine un po' esuberanti. Andiamoci piano, disse Miles Crawford. Niente licenze poetiche. Siamo nell'arcidiocesi qui. E si metton giù a sedere sulle loro sottanee righe, sbirciando di sotto in su la statua dell'adultero Monomano. Adultero Monomano, esclamò il professore. Mi piace. Afferro l'idea. Capisco cosa vuol dire. Doni di dame ai dublinesi. Proiettili creduti veloci aeroliti. Gli fa venire il torcicollo, disse Stephen, e sono troppo stanche per guardare in basso o in alto o per parlare. Mettono in mezzo a loro il sacchetto delle susine, le tiran fuori e le mangiano l'una dopo l'altra, forbendo col fazzoletto il sugo che cola dalle labbra e sputando i noccioli lentamente di sotto attraverso la ringhiera. Scoppiò in un'improvvisa forte risata giovanile come conclusione. Lenian e mister O'Madden Burke, sentendo, si voltarono, fecero un cenno e, sempre in testa, attraversarono la strada verso Mooney. Finito, disse Miles Crawford. Purché non faccialo di peggio. L'altera Elena colpita in pieno sulla proboscide da un sofista. Gli spartani arrotano i denti. Gli itacesi proclamano Penn campionessa. Lei mi fa venire in mente Antistene, disse il professore, un discepolo di Gorgia, il sofista. Si dice di lui che nessuno poteva dire se fosse più aspro con gli altri o con se stesso. Era figlio di un nobile e di una schiava e scrisse un libro in cui toglieva la palma della bellezza a Elena Argiva e la passava alla povera Penelope. Povera Penelope. Penelope Rich. Si prepararono a traversario Connell Street. Pronti. Pronti. Centrale. In vari punti lungo le otto linee, tramvai controlli immobili stavano fermi sui binari, diretti a o provenienti da Redmines, Red Farnham, Black Rock, Kingstown e Dalkey, Sandymount Green, Rinsand e la Torre di Sandymount, Donnybrook, Palmerston Park e Upper Redmines. Tutti immoti nella bonaccia di un corto circuito. Carrozzelle, vetture da nolo, furgoni per consegne, furgoni postali, carrozze private, carri dell'acqua minerale e gazzosa con strepitanti cassette di bottiglie strepitavano, rotolavano, tirate da cavalli, rapidamente. Come? E parimenti. Dove? Ma come l'intitola? chiese Miles Crawford. Dove avevan preso le susine? Virgiliano, dice il pedagogo. Il fagiolo vota per il vecchio Mosè. L'intitoli... Un momento, disse il professore, scostando le lunghe labbra per riflettere. L'intitoli... Vediamo un po'. L'intitoli Deus nobis ec ozia fecit. No, disse Stephen. L'intitolo... Visione della Palestina dal Monte Pisgà, ovvero la parabola delle susine. Capisco, disse il professore. Fece una ricca risata. Capisco. Ripetè con rinnovato piacere. Mosè è la terra promessa. Gliel'abbiamo data a noi l'idea, aggiunse rivolto a J. J. O. Molloy. Orazio al centro dell'attenzione in questa bella giornata di giugno. J. J. O. Molloy lanciò di traverso uno sguardo stanco alla statua e se ne stette cheto. Capisco, disse il professore. Si fermò sul salvagente di Sir John Gray e guardò a Nelson lassù attraverso le maglie del suo amaro sorriso. Muti le dita troppo titillano vecchiuzze inuzzolite. Anne tribola, Flo traballa. E chi potrebbe biasimarle? Adultero mono umano, disse sorridendo ferocemente, davvero mi solletica. Solleticavo anche le vecchiette, disse sorridendo Miles Crawford, se si sapesse tutta la santa verità di Dio.